Roberto, come sono ripartiti gli arbitri di Varesini, come stanno ripartendo un po' tutti gli arbitri? Una categoria che anche in queste settimane sembra sempre messa un po' da parte, perché insomma la sicurezza riguarda anche voi, quindi come è stata questa ripartenza e come pensate di ricominciare un po' tutti i campionati? Allora, in realtà non ci siamo mai fermati, per quanto strano possa sembrare, ossia rispettando chiaramente quelli che sono discorsi di protocollo e quant'altro, abbiamo fatto le nostre sedute di allenamento in maniera singola, quindi la parte atletica è sempre stata gestita dai ragazzi, con il nostro preparatore, tutto in videoconference e poi chiaramente la parte fisica fatta dal singolo arbitro. Per quanto riguarda la parte tecnica, siccome c'era chiaramente l'impossibilità di trovarci fisicamente, abbiamo sempre gestito con videoconference la parte proprio formativa, dai test, dai quiz tecnici praticamente a quello che era proprio la parte formativa, quindi video didattica. Faccio un esempio di quiz tecnico. La patente, la patente degli arbitri come funziona? Con le crocettive. Con le crocette. Funziona così? Sì, sono le crocette a tutti gli effetti e come la patente con gli stessi trabocchetti, sostanzialmente. Te la ricordi una domanda di quelle più… Quella che mi mette più in crisi, vogliamo sapere. Quella che mi mette più in crisi potrebbe essere quella che riguarda la tolleranza sulle dimensioni delle porte, ad esempio. Beh, tra l'altro… Tra l'altro quella di Vigiu è decisamente un caso recente, quindi… E qual è la tolleranza? La tolleranza è 2% o 2 cm? Quindi a Vigiu era troppo, era troppa, non si poteva tollerare più quella volta. No, 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 andiamo avanti. Perché lì poi l'hanno… Zappata, ha giocato. L'importante è che nel caso ci sia il discorso della problematica regolamentare venga risolto. Quindi l'importante è quello. Una volta che è risolto non c'è più nessun problema. Come cambierà secondo te la vita dell'arbitro che la domenica si presenta al campo e dovrà rimettersi in gioco? È una mia domanda. Eh, beh, beh, qui c'è della connessione. Qui c'è la connessione. Credo solo ed esclusivamente con tempi più lunghi, quelli che dobbiamo rispettare poi per il protocollo sostanzialmente. Poi per quello che riguarda il campo, le dimensioni non cambiano, i giocatori non cambiano, l'arbitro nemmeno. Le regole, qualche modifica ma non così voluminosa. Quindi credo che cambierà un po'. Speriamo, speriamo. Speriamo perché sennò... Speriamo.